Allora ci presentiamo, io sono Maurizio Castaldi, lei è Verone Capisano Facciamo un repertorio folk tradizionale, con svisati un po' attuali, magari con qualche citazione attuale La lingua che adoperiamo è un po' una lingua mista, spazia dall'ogutonese, gallurese e capitanese Tanto per sfatare la storia delle lingue, per noi l'importante è che sia una lingua sarda L'impa potrebbe comunque far concluire tutte le varie componenti linguistiche in un'unica lingua, speriamo Facciamo qualche brano di Tazenda, qualche brano tradizionale tipo Non poto riposare, Vada è lontana e tanti altri E soprattutto anche brani nostri, di nostra composizione Quindi adesso vi lascio incantare dalla bellissima voce di Veronica Pisano Iniziamo con Procurade Moderare Procurade Moderare Salve Ministerio L'isono con Procurade Moderare e già sa guerra contro sa pretentia incominza sa pazienza il suo popolo a mancare procurate moderare barone sa tira mia chi si non profida mia torrate sa peis in terra procurate moderare barone sa tira mia chi si non profida mia torrate sa peis in terra mirate si astendente contare noi sul popolo mirate il mio gioco chissà cosa è cantentera mirate chissà sa era minetta sa tentolata senti male con su strada risultate sa peis in terra procurate moderare barone sa tira mia chi si non profida mia torrate sa peis in terra dovrate già sa guerra guardate sa pretentia incominza sa pazienza il suo popolo a mancare grazie grazie